E' stato sostituire Lionello al doppiaggio di Woody Allen? Ma Oreste ha fatto il suo lavoro in tantissimi anni, è stata una pietra miliare da questo punto di vista, ha avuto il ringraziamento personale anche del signor Allen anche stamattina, così come io stamattina ho avuto i complimenti per il mio lavoro, è rimasto entusiasta, ho fatto praticamente il mio lavoro, l'attore, ma ho lavorato con due magnifiche presenze, una sullo schermo, Allen, il rappresentante del nostro cinema, comunque della nostra cinematografia del nostro secolo, dall'altra la magnifica presenza è stata Oreste Lionello. Ed è stata un'emozione quindi il doppiare Woody Allen? Sì, un gioco, un magnifico gioco esattamente come lui gioca sempre con magnifica genia. Il nostro sito, come le dicevo, si chiama Voto 10, qual è il suo film da Voto 10? Diciamo Il Gatto Pardo senza alto. Ottima scelta. Grazie. E come libro, il libro è anche importante, leggete, è importante, I Vicerè di Federico De Roberto. Ok, grazie mille. Grazie. 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 Grazie.